Gli hanno sparato alla nuca forse due colpi di pistola e ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi un giovane di 31 anni di Torre Santa Susanna, operato d'urgenza nella notte e stato trasferito nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Nelle stesse ore un ragazzo è stato fermato e portato nella caserma dei carabinieri perché sospettato del tentato omicidio. La sparatoria è avvenuta alle 3 della notte tra domenica e lunedì in via De Mille a Torre Santa Susanna, poco lontano dalla strada per Mesagne. I colpi sarebbero stati esplosi nei pressi dell'abitazione del ragazzo che è stato poi fermato dai carabinieri, forse al culmine di una discussione, ma la dinamica è tutt'altro che chiara. Il ferito è stato trasportato in ospedale da alcuni parenti che ai medici del pronto soccorso hanno dichiarato che si sarebbe ferito per gioco. In via De Mille si sono portati i carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna e poi quelli del nucleo operativo della compagnia di Brindisi che hanno effettuato i rilievi. Subito dopo hanno prelevato un giovane portandolo in caserma. Il movente del ferimento non è noto anche se entrambi i protagonisti della vicenda sarebbero legati alla criminalità locale. Nella caserma dei carabinieri di Torre Santa Susanna è arrivato il magistrato di turno presso la procura di Brindisi, ma della vicenda è stata anche informata la direzione distrettuale antimafia di Lecce.